Approvato in ala un testo unico che chiede di prorogare in Toscana i termini della scadenza della graduatoria Estar per assumere operatori sociosanitari. Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea a David Sassoli. A Borgo San Lorenzo dall'8 a 14 maggio Mugello daffiaba manifestazione all'insegna della letteratura, del teatro, della musica e dell'arte. Sanità, utilizzare la graduatoria per assumere al più presto gli OS. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione affinché gli operatori sociosanitari presenti nella graduatoria Estar siano assunti al più presto. La mozione impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo perché vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. Secondo Stefano Scaramelli è importante aver trovato un accordo largo per cercare una soluzione condivisa alle questioni del personale, iniziativa partita dal basso e con l'aiuto anche dei sindacati. Le associazioni, i sindacati sollevavano la questione, i operatori stessi, c'è un'attesa incredibile di OS e di assunzione, quasi 2000 persone in graduatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la graduatoria, quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consigliari, questo è positivo quando si trovano a punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in graduatoria OS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonee in graduatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle nello stesso tempo, una graduatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. La consigliera Federica Fratone ha osservato che siamo tutti favorevoli al concorso pubblico e alla conseguente emissione in ruolo, la proroga della scadenza dei termini andrebbe applicata anche per gli altri ruoli sanitari. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a due anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno tre anni perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita e soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie appunto che per le quali insomma vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Il secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali quindi che siano a tempo determinato o indeterminato attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale cercando appunto di assumere il più personale possibile. Secondo Andrea Ulmi se si proroga nei contratti con le cooperative non si assume dalle graduatorie mentre è fondamentale attingere dai concorsi già espletati. Abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OS che hanno in scadenza questa graduatoria ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie perché noi potremmo prorogare la sine die ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie. Per Silvia Noferi è stato importante trovare un accordo fra tutti i gruppi politici per dar maggior forza alla nostra richiesta. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della regione toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatore. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. Per Diego Petrucci esiste una reale emergenza nel sistema sanitario regionale. Gli operatori sociosanitari sono attori fondamentali del nostro sistema sanitario. Se ci fosse un intervento e un impegno concreto della regione toscana si potrebbe esaurire la graduatoria entro aprile 2024, ha detto. C'è una graduatoria della regione toscana all'interno della quale ci sono 2000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la regione toscana prende dalle agenzie interinali, anche per fare lavori continuativi, persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della regione toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che le 2000 osse in graduatoria vengono tutti assunti da parte della regione toscana, perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di 2000 osse, per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente, quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2000 osse entro aprile 2024, per metterli nel pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine, centinaia di milioni di euro, come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli osse presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Istituito il premio di laurea a David Sassoli Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità alla proposta di legge che istituisce il premio di laurea a David Sassoli. Il Consiglio regionale celebra annualmente la festa dell'Europa mediante l'organizzazione di eventi iniziative, volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani. Nell'ambito del programma di tale iniziative per l'annualità 2022, disposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Commissione Consigliare Politiche Europee e Relazioni Internazionali, è stato previsto il premio miglior tesi di laurea a David Sassoli, da assegnare alle tesi di laurea discusse negli Atenei Toscani sul tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Un modo, ha aggiunto il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, di ricordare la figura di Sassoli, il suo grande contributo alle istituzioni europee e di promuovere il sapere su temi europei. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa. Un modo per ricordare un grande uomo, un grande uomo delle istituzioni, David Sassoli. Negli anni di impegno come Presidente del Parlamento Europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà. E allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. Sassoli è una figura importante per la Toscana, per l'Europa. In avvicinamento alle giornate dell'Europa, ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale. Sarà duratura nel tempo l'idea di premiare dei ragazzi e con la ricerca. Ovviamente parlando di Sassoli parleranno dell'Europa, del nostro ruolo. La Toscana è sempre più una regione d'Europa e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, i propri testi di laurea a quello che è uno dei padri della nostra Europa. Questo è un attestato di stima. Io ho firmato molto convintamente questo testo di legge che rimane a questo punto una legge del Consiglio regionale e una legge che arriva a testimonianza di quanto la Toscana sia sempre di più una regione d'Europa. Francesco Gazzetti ha spiegato che dopo il successo riscontrato per le prossime edizioni i premi di laurea sono stati aumentati a 5, così come il loro importo. C'è orgoglio, felicità, anche emozione perché all'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione dove c'eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale e che con un lavoro che è stato fatto tutti insieme in Commissione Europa perché è una proposta che porta la firma di tutti i commissari e anche se ha giunto il presidente del gruppo Italia Viva Stefano Scaramelli permette proprio di raggiungere questo obiettivo e dunque a giorni verrà presentato il bando della seconda edizione di questo premio di laurea e quindi questo voto unanime, lo voglio evidenziare ancora una volta è anche il modo, avete sentito anche le parole del vicepresidente Galli per ricordare una figura di una personalità straordinaria una persona che ci manca molto ma che come sentiamo ogni giorno continua a essere al nostro fianco e con questa iniziativa lo sarà ancora di più anche nei tempi che verranno Giovanni Galli si è detto soddisfatto per un provvedimento su cui abbiamo lavorato tutti insieme e ha preannunciato ulteriore iniziative in futuro per ricordare la figura di David Sassoli che ha dato tanto lustro alla nostra nazione rappresenta un passaggio importante una figura che ha rappresentato la nostra nazione la nostra Toscana soprattutto in Italia e in Europa è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista ma anche una figura istituzionale e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani per tutti i nostri ragazzi di un esempio, di una persona equilibrata anche se politicamente eravamo e siamo su delle sponde diverse ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione toscana Mugello da Fiaba Mugello da Fiaba giunge alla sua nona edizione che quest'anno si svolgerà dall'8 al 14 maggio a far dar cornice a festival di letteratura, teatro, musica, arti varie per bambini e ragazzi si sarà ancora una volta a Borgo San Lorenzo che ospiterà le varie attività dell'evento in diverse location del paese dalla storica villa Pecori Giradi al monastero di Santa Caterina oltre alla biblioteca comunale le vie del centro storico il filo conduttore che quest'anno caratterizzerà Mugello da Fiaba celebra 100 anni dalla nascita di Italo Calvino tra gli scrittori più amati e importanti del Novecento in particolare si fa riferimento al suo romanzo Le città invisibili pubblicato nel 1972 nel quale la letteratura diventa un gioco come una costruzione che viene retta e poi distrutta Tutto esaurita anche il fuoriclasse di Mugello da Fiaba la proposta laboratoriale per le scuole di ogni ordine e grado che vedrà Villa Pecori Giradi scolaresche da tutta la provincia di Firenze non mancheranno i momenti ludici con i giochi del Palio di Paleo il ludobus, i tornei di giochi da tavole in collaborazione con Creativamente e Da Vinci Giochi che si incastreranno con gli eventi previsti nel centro storico di Borgo San Lorenzo fino al monastero di Santa Caterina sede di una versione da Fiaba della mostra mercato artigiana di Apoteca Mugello da Fiaba è un esempio concreto di come far avvicinare i ragazzi e le ragazze della scuola nuovi mezzi di comunicazione ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo In questa iniziativa ci sta l'idea stessa che noi cerchiamo di portare avanti ogni giorno investire sulle ragazze e ragazzi più giovani dargli la possibilità di approcciare anche a nuovi mezzi di comunicazione nuovi modi di fare socialità io voglio ringraziare il comune di Borgo San Lorenzo perché ogni anno con impegno, passione e dedizione riesce a far crescere questa iniziativa che davvero porta Borgo San Lorenzo ad essere la capitale toscana della Fiaba dall'8 al 14 maggio un'iniziativa rivolta ai più giovani che però vede l'ausilio di tante docente, docenti e maestre e maestri che hanno la possibilità di aiutare le ragazze e ragazze a crescere meglio Importante è continuare a sostenere questa iniziativa che ha portato nel nostro comune 12.000 persone ha detto Cristina Becchia, assessora alla cultura del comune di Borgo San Lorenzo Un'iniziativa che ha portato a Borgo San Lorenzo oltre 12.000 presenze un'iniziativa che vedrà in campo oltre 200 eventi intitolata quest'anno Italo Calvino per i suoi 100 anni e in particolare le città invisibili perché abbiamo la speranza di potere attraverso la letteratura attraverso le costruzioni che metteremo in atto e i laboratori che faremo di far comprendere come le parole si possono scomporre e ricomporre creando dei giochi L'evento è stato organizzato dal Remida con la collaborazione di Officina Cubo L'Eremida è un centro di riuso che si trova nel nostro territorio l'unico in Toscana che quest'anno organizzerà Musello d'Affiaba avvalendosi dell'associazione Officina Cubo creando e basando poi quelle che saranno alcune iniziative proprio sul fatto che la materia non finisce, non si butta ma può rigenerarsi insomma un'iniziativa dedicata dai bambini con tanti eventi teatro, danza, musica, laboratori di ceramica insomma di tutto e di più, vi aspettiamo Un evento ha dichiarato la direttrice artistica del festival Serena Pinsani che diventa prima di tutto il festival dei bambini che in questi giorni imparano a riutilizzare e riportare in vita materiali già usati e attraverso la danza, la musica, il teatro e l'arte riescono a dare vita ad un modo nuovo e consapevole di avvicinarsi alla cultura e alla creatività Il tema di quest'anno è un po' difficile ma bellissimo invisibili, incastri condivisi questo perché il festival è il frutto di tante unioni di tanti piccoli legami che sotto appunto il cappello di Remida il centro di riuso creativo si sono poi sviluppati per dar vita a questo festival che è soprattutto il festival dei bambini dei bambini da 0 a 99 anni ci saranno tante iniziative dai laboratori remidiani di costruzioni il sabato 13 si svolgerà il Remida Day quindi una giornata interamente dedicata a Remida con costruzioni con scarti aziendali ai laboratori della ceramica in omaggio a Galileo Chini di cui ricorre un anniversario importante e poi il teatro, la musica tanti libri, tante letture ad altavoce in collaborazione con i lettori della LAV della lettura ad altavoce e la danza e tanto, tanto, tanto l'ingresso è libero e gratuito